Ciao, sono Martina Magliello, ho 23 anni e sono una neolaureata di Arti e Scienze dello Spettacolo presso la Sapienza di Roma. Ho iniziato il mio percorso un po' per caso, perché quello che in realtà volevo fare dopo le superiori era andare all'estero e cercare fortuna lì. Poi per problemi non sono potuta partire e quindi mi sono chiesta cosa voglio fare e ho deciso di intraprendere la carriera universitaria. Ho scelto il corso di Arti e Scienze dello Spettacolo offerto della Sapienza perché mi piaceva l'idea di poter scegliere il mio percorso in quello che è il basso mondo dell'arte e mi sono specializzata soprattutto in cinema, anche avendo approfondito argomenti come quello del teatro, la musica, l'arte, non sono mancati esami di storia, di letteratura e altro. Sicuramente il corso che mi ha lasciato di più è stato quello di scenografia virtuale che mi ha dato gli strumenti necessari per fare qualcosa di concreto, essendo la mia un corso prettamente teorico che ti fornisce quindi nozioni di cinema, teatro e quant'altro. Come ogni altro percorso universitario, anche il mio ha previsto un tirocinio curricolare che non è stato però nel mondo del cinema ma in quello dell'organizzazione degli eventi dove ho scoperto la mia passione ed è stato fondamentale per capire l'importanza dell'immettersi subito in quello che è il mondo lavorativo. Infatti consiglio ai giovani che vogliono intraprendere una carriera nel cinema di fare tanta esperienza e tanta gavetta. Anche se questo potrebbe risultare molto difficile in un periodo di pandemia l'importante è non perdersi mai d'animo.